E' della nostra vita che dobbiamo prendere in considerazione, non la vita che ci devono insegnare gli altri. La società ci insegna 10.000 cose che dovremmo fare, poi non riusciamo a fare neanche una, possiamo stare alla politica, ma quella che ci insegna la società sono degli indirizzi che devono sollecitare la nostra attenzione. Io parlo della società, dicendo religioni, politica, associazioni e l'educazione ambientale di quando eravamo bambini, di quando siamo società in termini generali. Noi siamo continuamente sollecitati da tutte queste cose, dall'educazione intanto perché siamo condizionati dall'educazione, poi ci siamo decondizionati con altre ragioni, infatti nell'età adulta, nell'adolescenza molti di quei condizionamenti sono stati combattuti, ammattuti, giustamente, tanto è vero che c'è, in psicanalisi si dice che se il figlio deve mangiare il padre, deve divorare il padre, c'è il momento in cui c'è la ribellione del figlio, perché se non si ribella ai genitori, non matura, sarà sempre condizionato dalla figura paterna o materna, quindi i condizionamenti sono superati. E' lo stesso i condizionamenti della società, se si è maturi si devono superare, se non si è maturi si è soggetto a quei condizionamenti, allora abbiamo bisogno ancora del padre, della madre e abbiamo bisogno dei carabinieri, della polizia che ci dice quello che dobbiamo fare.